Aristotele diceva che per convincere bisogna prima essere convinti. Mike ha sempre fatto questo lavoro, se possiamo chiamarlo un lavoro, con un impegno straordinario, facendo percepire chiaramente agli spettatori, ai potenziali consumatori, che lui credeva in quello che diceva. Ma la verità vera è che lui ci credeva davvero. Questa è la grande rivoluzione di Mike.